Non cogliere questa opportunità è un modo per dire addio ai centri dell'area vestina e alle sue peculiarità. Così il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri rivolgendosi agli amministratori intervenuti all'inaugurazione dello sportello Punto Europa. Oggi anche a Penne si apre uno sportello del service di programmazione europea che il Consiglio regionale insieme con l'ANCE e con l'AGRE ha creato e sarà a disposizione di tutti i comuni e non solo per cercare di rispondere ai bandi della comunità europea a trarre qui soldi, investimenti per far vivere meglio i cittadini di Penne e di tutti i comuni dell'Alta Valle Vestina. L'intento è quello di focalizzare le attività istituzionali dell'Associazione per la promozione dell'europrogettazione a beneficio di tutta l'area vestina. Farà sicuramente da volano a tutto ciò che è l'europrogettazione per avere un'Europa che sia sempre più vicina al cittadino e che sia quindi sempre più tra la gente e in mezzo alla gente. L'idea è quella di creare appunto un monitoraggio costante dei progetti che l'Europa oggi offre soprattutto alla luce della nuova programmazione settennale Horizon 2127. Un servizio gratuito per i comuni che si occuperà di studiare i bandi, schiedere i progetti e inviarli per ottenere i finanziamenti. Questo il lavoro specifico dello sportello, aperto due giorni a settimana nei locali del municipio. I fondi europei siano una risorsa importante per gli enti locali, soprattutto in questo momento. Abbiamo il PNRR ma abbiamo anche il nuovo ciclo di programmazione europea, i fondi FESR ed FSE e i fondi FSC dello Stato che sono comunque fondi compartecipati con risorse europee. Naturalmente l'obiettivo da centrare è questo sportello, sarà a disposizione dei centri, dei comuni dell'Interland Vestino quindi PNRR ancora una volta funge da supporto proprio perché vogliamo che questi fondi siano spesi sul territorio e questa è la sfida da cogliere.